Beh dai, bisogna ammettere che già l'aria che tira non è delle migliori, poi giri la carta della settimana e il diavolo, diciamo, forse è un problema. Ma in realtà, come al solito, noi cerchiamo dalla carta della settimana degli spunti per vedere come lavorare, quali frequenze sviluppare e quindi automaticamente cercare in qualche modo di trovare un equilibrio all'interno del ciclo che stiamo vivendo. Quindi, per esempio, si può pensare, con la carta del diavolo, ha visto tutte quelle situazioni dove tu continui a viverle ma vorresti solo buttare una bomba a ninja e sparire, no? Una relazione, ti vado a comprare le sigarette, un lavoro, una dinamica qualsiasi. Perché non sparisci? Vabbè, le motivazioni possono essere tante, ma con l'arcano numero 15 ti invita a riflettere sul fatto che a volte tagliare la corda non è un atto di meschinità, ma può essere l'unico modo per salvarsi. Soprattutto se sei una persona che tende a prendere di petto le situazioni e automaticamente perde molta energia a combattere contro quello che crede essere ingiusto. Poi, esiste anche uno sparuto gruppo di persone che in questo momento sta vivendo un'espansione personale, su un percorso professionale o spirituale, ma purtroppo, per un fattore esterno, sta vivendo una battuta d'arresto. Molto spesso, quando questo è il caso, si ha la tentazione di prendere di petto il problema di calcare la mano e di cercare la soluzione, sforzandosi molto, ma ricorda che a volte sforzarsi molto e calcare la mano non è sempre un modo per risolvere la questione. Mettila così, o magari più ti espandi, più hai tolto la corda che ti teneva legato, più cerchi di conquistare finalmente territorio, e più ovviamente questi impedimenti sono un riflesso dei problemi che entrano in risonanza con una nuova versione di te. Ecco perché il diavolo non sempre ci invita a vedere le devianze, ma a volte ci invita a vedere chi siamo nella nostra profondità. E se credi che c'è un diavolo tentatore che in qualche modo ti possa deviare, è un tuo problema. È un tuo problema di autoaccettazione. Non esiste un diavolo. Esiste chi sei tu e chi sei nel tuo interno, nel tuo interio, nelle tue viscere, in modo autentico, in modo genuino. L'invito è quello di togliere, abbandonare, slegarti, liberarti dalle credenze che ti sei autoimposto e vedere com'è facile prendere il volo. La cosa bella è che solitamente quando ci autoimponiamo delle credenze limitanti è molto facile toglierle di mezzo. Cioè basta un passo per farle fuori. Se, come ripeto ogni settimana, queste energie, queste frequenze entrano in risonanza con te, prenditi un quarto d'ora di tempo e fatti un'autolettura. La domanda da fare al tarocco è quale credenza limitante sta ostacolando la mia crescita personale, la mia crescita spirituale, lavorativa, poi vada tu a inserire all'interno di un campo. Buon lunedì e buona settimana! Buon lunedì e buona settimana! Grazie a tutti.